Commissione e Governo, favorevole delle relatrici di minoranza. E' aperta la votazione. Sberna. Battaglia. Ci siamo? E' chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo agli emendamenti identici. 10.73 Vezzali, 10.77 Vacca. Parere contrario di... Onorevole Vezzali, prego. 10.73 lo ritiro. Grazie. Quindi mettiamo in votazione l'emendamento 10.77 Vacca. Parere contrario Commissione e Governo, favorevole delle relatrici di minoranza. E' aperta la votazione. Ci siamo? Galperti. Fanucci. Fanucci ha votato. E' chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo agli emendamenti a pagina 47. Centemero. 10.79. Parere contrario di Commissione e Governo e delle relatrici di minoranza. E' aperta la votazione. Della Ringa. Grazie. 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 Grazie.